standing ovation direi damiano fai fammi la ola abbiamo il pubblico che mi acclama bullizzato dai suoi studenti tra l'altro che non sanno perché non sanno buonasera Enrico stavamo parlando ciao a tutti ragazzi posso finire su Gosens senza sparare sentenze posso si richiudo la chat allora allora su Gosens è che l'Inter e Gosens hanno già l'accordo cioè il Gosens e i procuratori di Gosens hanno accettato l'accordo economico che gli è stato proposto ovviamente ora c'è lo scoglio più grande che è quello dell'Atalanta perché l'Atalanta da quanto mi dicono poi non so se Carlo può confermare chiede non meno di 35 milioni per il giocatore al netto del fatto che l'Inter da quello che so io è arrivata massimo a 20 gli è stato risposto che o si trova una quadra o il calciatore non partirà da Bergamo il calciatore gradisce la destinazione ma come penso che è giusto che sia si sta trattando secondo me i tempi sono corti però mai dire mai allora Berrettini ha vinto Berrettini ha vinto ufficiale complimenti a parte gli scherzi complimenti veramente Berrettini semifinale orgoglio italiano ragazzi gliel'avevo detto a santo padre che vinceva il quinto set se lo lasciate poi ve lo faccio vedere comunque andiamo avanti no ma non avevamo dubbi Enrico anzi le chiedo scusa a nome mio e di tutti quelli che dubitavano della sua grandezza le chiedo scusa prego Carlo confermi Carlo sicuramente serve un'offerta tra i 30 e i 40 milioni ma più che la questione economica davvero io credo che per l'Atalanta sia importante trovare il sostituto perché un esterno come Gosens che attacca la porta come Gosens che segna come Gosens però Carlo perdonami perché a me hanno detto che l'Atalanta potrebbe accontentarsi di rimanere con Mele e con Pezzella e infatti ce le ha no è quello che mi dicono poi io su Bergamo veramente so poco cioè nel senso mi mi dicono altri non ho parecchie cose le ho perse ciao Petani e Gomez e Gollini le ho perse quindi sta arrivando il maestro sta arrivando può anche darsi che sia così nel senso che come dicevo alla fine l'Atalanta sta facendo comunque la sua onesta stagione senza Gosens che fuori dal 20 settembre e quindi potrebbe anche decidere di restare così teniamo presente che l'Atalanta entro la fine del mercato ha bisogno di liberarsi di un giocatore straniero perché acquistando Boga non ha più il in questo momento non ha il posto nella lista per inserire Boga ha bisogno di togliere un giocatore straniero però già che ci siamo che è un grosso punto di domanda prego Harry prego prego King no ci siamo posso sì sì ma no sono il re ma io voglio stare con i piedi per terra rispettiamo anche Damiano perché lui aveva detto che dell'Alsa era vero che c'era però diciamo sono stato fortunato io non avevo chiesto nulla e me l'hanno voluto dire che signore che signore che signore ragazzi un'umiltà pazzesca non acciacco chi sta in difficoltà un'umiltà pazzesca ma va bene poi aggiungiamo ma ci metto tre secondi ci metto tre secondi prego allora facciamo una cosa caro Andrea Panciroli chiamiamo Ezio Greggio che l'ha detta il 18 dicembre e Camelio l'ha copiata in maniera spudorata ah eh no signor Camelio questo questa me perdoni Ezio Greggio Ezio Greggio il 18 dicembre ha detto Vlaovic sarà della Juve ma ragazzi io vi voglio bene questo è tirare e indovinare perché il signor Camelio è stato bravo ma non ci ha detto quando non ci ha detto le cifre non ci ha detto il contratto del giocatore anch'io domani posso dire eh Scammacca va all'Inter prima o poi Scammacca andrà all'Inter eh sto a tirare e indovinare non parlo di quando non dico la data non dico le cifre e allora scusate Ezio Greggio facciamo i complimenti a Ezio Greggio vediamoci lo vediamoci dicembre eh allora poi rispondo eh dammi un attimo che devo mettere l'olio prego prego Enrico risponda pure risponda pure no no ma le cifre Damiano fa confusione perché per esempio tutti stanno dicendo di 18 milioni della commissione eh abbiamo detto che una cazzata 18 milioni era se il giocatore fosse andato a scadenza quindi la commissione ma chi è che lo sta dicendo tutti gli operatori di mercato eh io no quindi questa volta no volevo finire quindi questa volta siccome nessun operatore di mercato ha dato questa se poi Ezio Greggio beh fa striscia la notizia io non sono un operatore di mercato lavoro sul mercato mi diverto e stavolta l'ho beccata e basta io non starei a dire però l'altro l'ha detto per sminuire la cosa mia non è carino caro Damiano però però l'ha detto dopo 20 dicembre no però non ha giunto niente di più a quello che ha detto Ezio Greggio no vabbè dai a destra manca no però intanto casomai sono stato sveglio a copiare Ezio Greggio e a rischiarmela però tu sei con chi ho parlato e non è paratici stavolta è una persona no seria di più e me l'ha voluto dire lui senza che io gliel'ho chiesto ma lui mi aveva dato anche dato informazioni su veretù e anche su Zapata che non partirà dall'Atalanta che Bocca era fatto insomma ha dato un sacco di notizie Damiano e quindi dai stavolta stacci ma non è pensate oggi ma io non ce devo stare io racconto le trattative non si va di indovinare io ho raccontato dell'Arsenale cosa che Daniele Prade ieri sera in trasmissione a Sport Italia ha confermato che c'era l'unica offerta avvenuta dalla Premier e quindi tu non ti rindovinai io sì dai se no te fai il fenomeno non è carina questa cosa dai tu tieni le due fonti tu sei con chi ho parlato non fare lo stronzo perché se no non te dico più niente la fonte era non è attendibile di più e quindi siamo tutti quanti ordinati quando uno sbaglia lo ammette e quando l'altra persona lo prende si fanno i complimenti per esempio in radio ragazzi quando mi dà qualche notizia cito la fonte a differenza sua che non lo fa mai ecco perfetto però è Damiano lo vedo un pochino fermo in questo momento c'è rimasto un po' allora chiedo all'occasionale finché ci siamo perché l'Inter riaggonciandoci all'Inter perché adesso dopo c'è tutta una parte con la Juve ragazzi abbiamo un parter incredibile tra l'altro finalmente abbiamo anche Francesca Taglie abbiamo trovato una Juventina esperta anche di mercato l'occasionale le chiedevo che lei sappia l'Inter poi Camelio confermerà ovviamente è vero che c'è l'interesse per Scamacca e anche per un altro giocatore? ma io sapevo che ci fosse questa love story più che altro con Raspadori sempre stata di Scamacca non sapevo altro giocatore non saprei però sicuramente mi ha lasciato molto addolorato questo FC Inter 1908.it che dice tripla risposta Inter intende per giugno bloccato Scamacca novità su Frattesi e Bremer e che è diventato del Paris Saint Germain nell'Inter adesso Bremer lo considero un ottimo difensore però è del Torino quindi mentre perderesti due cardini della tua squadra voglio dire Scamacca e Frattesi soprattutto dopo che sappiamo praticamente tutti che Berardi a fine anno giustamente andrà via poi abbiamo perso anche Boga adesso però scusate questo di Berardi si dice dal 1920 che va via eh sì ma quest'anno anche col fatto che gli hanno tolto la fascia mi sa che questa è stata l'ultima grazie e il Toro Martinez per il quinto sembra che lui volesse andare però avevamo già venduto in questa sessione di mercato Locatelli Termevali gli avesse detto Mimmo devi rimanere quest'anno perché sennò non ce la facciamo più quindi Berardi è rimasto contro voglia però gli hanno detto l'anno prossimo lui ha detto devo andare via l'anno prossimo scusate ma visto che Camelio sapeva della Juve ora saprà sicuramente le cifre saprà quando arriva Vlaovic allora ragazzi scusate un secondo Giovanni Albanese che sarà qui da noi alle 15.10 ha appena tweetato Vlaovic sta salutando i compagni tra poco ce l'abbiamo qua ragazzi ne parliamo insieme Camelio sì Damiano ma io mi dispiace che stai così in difficoltà e poi metto in difficoltà a me cioè non è che se tu perdisci attacchi e vinci te la prendi passa dai no fammi finire ma scusa ma io non perdo non l'ha detto nessuno dai tu lo sai di tutti gli operatori di mercato ma come l'ha detto Ezio Greggio il 20 dicembre vabbè dai Damiano se vuoi scherzare io scherzo va bene è che scherzare scusa perdonami Ezio Greggio lo dice il 20 dicembre e perché ne hai detto pure te? perché io non ne sapevo nulla e allora che vuoi? perché io non ne sapevo nulla ma perché non c'era nulla l'unica squadra vabbè ti sto chiedendo hai le cifre ora totali? ma le cifre si sanno Damiano non è che non le scopro io e dimmele ti posso solo dire quello che ho detto prima che non è vera quelle commissioni di 18 sento male però ma parlo dello stipendio di Vlauic parlo delle sue visite mediche parlo della cifra totale parlo di come la Juve ha fatto a trovare i soldi ve lo dico io visto che vi racconto le cose e Camelio dirà indovinare allora la cifra complessiva ma che brutta sta cosa da parte di Dusan Vlauic e da parte della Juventus sarà per 75 milioni complessivi 67 più bonus sì ma avevi detto no però voglio aggiungere scusami però che me li fa finire grazie Fede lo stipendio del calciatore lo stipendio del calciatore sarà dei 6 milioni e mezzo di non 7 era trapelato ieri sera che fosse di 7 milioni invece di 6 milioni sì ma non ha preso quella più importante avevi detto John Elkan John Elkan ha dato l'ok da parte di Exor per l'acquisto del calciatore serbo la Juventus in questo momento l'unico problema che ha è liberare la casella per Morata che direzione Barcellona proprio in questi minuti stanno trattando le due società finisco col dire che a giorni e io credo che entro venerdì il calciatore farà le visite mediche e inoltre che la Juventus sta preparando una grande presentazione del giocatore serbo da Bergamo TV Carlo Cavesi detto Re Carlo e l'occasionale Canavesi Canavesi ma è Re Carlo e il podcast del Sassuolo perché è uscito Cavesi e Levis bravissimo bravissimo e il podcast del Sassuolo più importante d'Italia ok si è parlato adesso di dicevano prima che c'è la possibilità di GoSense per giugno Scamacca Fra Tesi e Bremer e da subito GoSense dall'Atalanta allora tu Fabio stamattina hai postato una storia Instagram che adesso però ci devi raccontare caro amico Fabio Bergomi seguite Fabio Bergomi su ovviamente su Instagram ma anche che è un social di merda che deve fallire domani ovviamente che deve fallire anche a vita che c'è che c'è